Prosegue con successo il lavoro dei carabinieri di Ostia. Dopo la recente operazione effettuata a Ponte Galeria che ha consentito l'arresto di quattro persone, questa mattina si è concluso un intervento straordinario all'Isola Sacra nel quadrante compreso tra Viale Danubio, Via Oder, Via Tago e Via Loira. Nel mirino le note piazze di spaccio e le aree maggiormente interessate da episodi di illegalità. L'attività è stata coordinata dall'elicottero dell'arma con l'ausilio delle unità cinofile. In manette un uomo di 54 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno della sua abitazione sono stati scoperti quasi 200 grammi di cocaina e 55 di hashish. Il pusher è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa dell'udienza di convalida, mentre il materiale è stato sequestrato. Infine, nel corso delle operazioni, i militari hanno controllato 88 veicoli e identificato 189 persone, segnalando due giovani alla prefettura per uso personale di droga.